Grazie a tutti Vediamo la scenografia telefonale dietro il palco Dedicata ai 4 modelli Giuseppe, Andrea, Domenico e Roberta 30 secondi 29, 28 Allora dal 10 lo facciamo insieme, va bene Raffaele ci sei con me? Ci sto, ci sto, ci sto Molti sono già partiti No, vediamo la scenografia giusta Per voi La notte dei signali, la notte delle lantenne Tienza inizione 5, 4, 3, 2, 1 Si vola, vai ragazzi, vai Facciamo volare tutte le lantenne Terza edizione ragazzi, terza edizione Consorzio Vivere in Basso Marina Comune di Basto Qui su posto accanto a me abbiamo il DJ Donaltieri Il Mois, Raffaele, Jair Ciao Giovanni Ci siamo tutti e tre, ci siamo Facciamo eh Facciamo le molare tutte le lantenne Allora Raffaele, mi hanno appena detto che sono centinaia e centinaia le lantenne consegnate questa sera Mi dicono che si tocca il 400 e passa eh Vabbè, bene, bene, bene La terza edizione, la terza edizione Attenzione, attenzione Salvato, salvato Attenzione un'altra Il calcio d'angolo Il calcio d'angolo Attenzione a questa Guarda che scenografia sul pontino, Raffaele, guarda che scenografia eh Momenti indescrivibili, emozioni uniche Vivi Basso Marina Raffaele, te l'aspettavi una cosa del genere? Eh, io l'ho ascoltato purtroppo non c'era Attenzione Senza parola Meravigliosa Bella Bella Pasco del cuore Stiamo accogliendo tutte le lantenne per voi Tanti ancora ne devono volare eh Tantissime ancora le lantenne che devono partire Per questo tempo Ringraziamo anche gli ultimi arrivati Tanti ce la stanno mettendo tu per accendere le lantenne? Vale, vale, vale a qualsiasi momento Allora venite avanti, cercate di venire più avanti possibile ad accendere le lantenne Cielo stellato Centinaia, centinaia di lantenne in una notte sola eh Questo dedicato a Giuseppe, Roberta, Andrea e Domenico Questa notte è loro Quattro lantenne speciali in una notte unica la notte e i desideri Come esce E centinaia sono le lantenne ancora che stanno ovdine Per prendere il culo eh Attenzione lì Un cielo stellato, un cielo incartato Abbiamo trovato un cellulare per tempo che l'avreste perso L'abbiamo trovato qua, è in consorso, una donna Che telefono è? Che telefono è? Attenzione! Il mio amico è fatto anche un bambino sul palco che si è sbavito E i genitori... Ringraziamo anche tutto lo staff, l'eccellente servizio, l'eccellente lavoro Questa notte è fantastica, questa notte è unica La notte dei desideri, Passo Marina è stato in 2.016 C'è il piccolo Stefano che ha perso l'uzione della zia Eh, ce l'abbiamo qui sul palco con noi Tranquillo, adesso ritorniamo Il piccolo Stefano Bacini, giusto? Bacini Il piccolo Stefano Bacini, giusto? 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 Il piccolo Stefano Bacini, giusto?